Per tre mesi, oltre 250 alunni di 10 classi di quarta e quinta elementare di 9 scuole torinesi hanno svolto laboratori teatrali su 10 temi legati all'Europa della cultura, sotto la tenta guida dei docenti dell'Accademia dei Folli. Europuzzle, progetto promosso dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte, è curato dalla Compagnia Teatrale Torinese. Il Centro Congressi della Regione Piemonte ha ospitato venerdì 30 maggio l'evento finale. Europuzzle ha introdotto i bambini in modo creativo e divertente al concetto di Europa, delle sue istituzioni, dei suoi popoli e delle sue opportunità. Ogni classe ha messo in scena un quadro legato a uno dei 10 temi selezionati per il progetto. Ogni episodio ha costituito un tassello fondamentale che costituisce il puzzle di un'Europa inedita, specchio delle idee e dei sogni.